Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6 per questo mercoledì 31 agosto. Si conclude l'estate meteorologica e lo farà all'insegna dell'instabilità pomeridiana per lo più nelle aree interne montuose sia al nord sia lungo la catena appellinica. Andrà decisamente meglio lungo i tratti costieri, soprattutto quelli del lato tirrenico che vedranno cielo sereno praticamente per tutta la giornata. Con cadenzamento in più invece sul lato adriatico, ovviamente sulle coste, però senza particolari conseguenze. In Abruzzo una giornata complessivamente stabile, al mattino in particolare con cielo sereno poco nuvoloso. Poi durante il pomeriggio tornerà l'instabilità nelle aree interne, quindi montagna in collina. Mi aspetto degli acquazzoni, dei temporali localmente di forte entità, in particolar modo sull'Aquilano, sulla Marsica e verso la Conca Aquilana. Anche l'alto sangro farà i conti con qualche intenso temporale sinverso il vastese cielo poco nuvoloso sulle coste. Le temperature senza grandi variazioni, massime non oltre i 29-30 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.